Cari amici, ben arrivati in questo nuovo episodio di consigli agli acquisti numero 2, nel senso che si collega al video che forse alcuni di voi già hanno visto su quali sono le migliori fotocamere usate per tutte le tasche. L'abbiamo diviso in due video perché altrimenti diventava la corazzata Potioski, cioè diventava veramente lunghissimo perché ci sono tante fotocamere che comunque ci piaceva farvi conoscere o quantomeno presentarvi in questo filmato. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a questo punto Roberto direi di partire a bomba subito con le fotocamere in maniera tale che possiamo sviscerarle nel dettaglio. Allora, budget di spesa fino a 1000€, quindi cominciamo a arrivare a cifre nel mondo dell'usato con le quali, insomma a 1000€ si possono trovare prodotti interessanti. I contendenti vedete sono veramente parecchi, quindi Fuji X-T3, Olympus OM1 Mark II, la Fuji H1, la Nikon 810, la Leica Deluxe 7, la Canon 6D Mark II, la Nikon D500, la Nikon D750 e poi la Pentax K1. Allora Roberto, tanti prodotti direi, inizia pure tu, partiamo dalla Fuji X-T3. La Fuji X-T3 è una macchina attualissima, è un sensore X-Trans, è un CMOS retroilluminato da 26 milioni di pixel, lo stesso sensore montato sull'ultimissima, sulla miraglia attuale X-T4, una macchina completa, completissima, profili pellicola, autofocus, con l'ultimo aggiornamento firmware, va più o meno, anzi direi identico, l'abbiamo provato di Damiano personalmente, a quello dell'X-T4, profili pellicola bizzeffe, come ormai Fuji ci ha abituato, bellissimo mirino ad alta risoluzione, un 3 milioni e 600 mila pixel, un display ancora articolato in senso verticale, però per chi fa fotografia sicuramente comodo, un reparto video molto sostanzioso, quindi è una macchina che riesce a fare anche degli ottimi video, non ha la stabilizzatore, però ci è piastato un gimbal e voi siete a posto, quindi è una macchina molto completa e molto attuale. La cifra che abbiamo messo è una cifra più o meno nel mercato, nel senso che è una cifra che abbiamo valutato bene, perché è una macchina, specialmente da quando è uscita l'X-T4, che è un calato a un po' di prezzo, ma non più di tanto, e state attenti anche qua, in Fuji per le promo. Una macchina quindi che se trovata in buono stato è sicuramente altamente consigliabile. All'approccio vintage una volta di Fuji, quindi un po' come l'X-T1, questo è chiaramente molto prestazionale, è un'ottimissima nave scuola, quindi sarebbe un salto ancora più in alto rispetto all'X-T1, che può dar veramente tanto, doppio slot per le schede SD, una macchina molto attuale, una macchina moderna, che veramente, io vi dico, a parer mio non è nulla che invidiare con le attuali ultimissime mirrorless sul mercato. Robusta, affidabile, l'unico, tra virgolette, difetto, ma comune a tante mirrorless, è la batteria che non ha tanta autonomia. Ne prendete tre o quattro, ce le cacciate su e vivete tranquilli. Macchina veramente top, alla grande. Allora, parliamo adesso dell'Olympus EM1 Mark II, sapete che nel 2020 è stata presentata la Mark III, ma comunque l'M1 Mark II rimane un prodotto attualissimo, un prodotto davvero, davvero ottimo, azzeccato da parte dell'Olympus. Noi la recensiamo proprio al lancio del prodotto, una fotocamera che già dall'inizio ci convizze particolarmente, un prodotto costruito a regola d'arte, come Olympus sapeva fare, purtroppo dobbiamo parlare al passato, costruita in maniera molto ergonomica, di qualità, quindi tropicalizzata, robusta la fotocamera, un mirino che non ha un'alta definizione, ma è comunque molto, molto, molto naturale, è grande, quindi si vede bene, si inquadra benissimo. Un prodotto professionale, professionale anche per quanto riguarda l'autofocus, è un sistema ibrido a fase e a contrasto di generazione evoluta che ha subito anche un ulteriore miglioramento con un aggiornamento firmware, con diversi aggiornamenti firmware, quindi una fotocamera adatta anche alla fotografia sportiva e naturalistica a un prezzo, vedete, 750 euro assolutamente non elevato, sensore da 20 milioni di pixel, classico di LiveMOS di Olympus, ottimi JPEG, ottima resa colore, tante funzioni veramente interessanti, l'alta risoluzione, l'iComposite, l'iBalb, insomma lo sapete, l'abbiamo parlato parecchie volte, insomma Olympus è veramente un coltellino svizzero fantastico, è uno stabilizzatore pazzesco, ecco questo è uno dei plus più importanti di questa fotocamera, se voi volete una fotocamera tripod free, diciamo utilizziamo questo termine, cioè senza l'utilizzo del treppiede, quindi potete insomma andare a fare paesaggio anche a mano libera, magari ci abbinate un bel 12-100mm F4 che insieme portano la macchina a 6 stop, se ne ricordo male, di stabilizzazione, forse 6 stop e mezzo, insomma stabilizzazione è pazzesca, noi al lancio, mi ricordo che facciamo gli scatti a mano libera a 2-3 secondi, una cosa allucinante, quindi veramente un prodotto ottimo, chiudo ricordando che la batteria, la batteria ad alte performance veramente è molto molto longeva, quindi anche questo aspetto positivo. Se avete paura che con la nuova gestione o lì l'assistenza doveste avere dei problemi, togliete queste paure perché l'assistenza ai prodotti Olympus è garantita, per cui state tranquilli, non correte nessun tipo di rischio. Passiamo adesso ad un altro modello Fuji, l'H1, che è una macchina che ha il suo perché, è una macchina che quando è uscita non è stata molto capita, un po' anche per colpa di Fuji perché l'ha fatto uscire in un momento non molto adatto, perché in concomitanza con l'XT3 più o meno, che è un sensore, un autofocus specialmente più evoluto. In pratica l'H1 ha il cuore della vecchia XT2, ma carrozzata super, perché questa è una macchina veramente professionale e ti accorgi quando la prendi in mano. Io attualmente la utilizzo ancora per i servizi matrimoniali ed ha un'affidabilità altissima. Con il suo battery grip, è un'autonomia comunque molto elevata perché tra le batterie ti permettono di fare 1000, 1200 scatti, ma è proprio la sensazione di solidità, la fluidità dei comandi. Il display è molto comodo a mio avviso, il monocromatico sulla parte superiore che ti fa vedere le impostazioni di scatto. Insomma, per farla breve, un po' tutte le impostazioni della macchina ti fa capire l'impegno che ha messo Fuji in questa macchina. C'è da dire anche che è stata la prima stabilizzata di Fuji. Certo, non è uno stabilizzatore da urlo, però tre o quattro stop in mano a mano un po' ferma si riescono a fare degli scatti comunque ottimi ed è una goduria, scusatemi il termine, quando ci cacciate sopra un 16-55-2.8, che è un ottico zoom professionale di Fuji che non è stabilizzata, poterla avere stabilizzata ti dà quella marcia in più. Una macchina comunque che dà sempre dei file molto molto belli, che a questo prezzo, a questo prezzo forse riuscite a trovare addirittura anche col battery opzionale, perché c'è stata una promozione qualche tempo fa, un prezzo incredibile di questa macchina col battery opzionale. È una macchina che dà veramente tanto, è una macchina che è utilizzata ancora tantissimo da tanti professionisti, quindi non potevamo non metterla. Una ripetizione forse con l'XT3? No, è una macchina diversa, con prestazioni diverse, è un approccio diverso. Un vero cavallo di razza, un cavallo di battaglia. Ok, arriviamo adesso a parlare di una reflex, reflex full frame, una reflex che ho avuto e che onestamente ricomprerei subito ad occhi chiusi, la Nikon D750. Un prodotto che forse, per gli amanti del marchio Nikon, che hanno avuto la D700, deludeva dal puntista della qualità costruttiva, la D700 era veramente un cararmato con un mirino pazzesco, la 750 era un pochino più cheap come sensazione. Però in realtà è un prodotto molto molto valido, un autofocus molto buono, forse con i punti un pochino troppo concentrati nella parte centrale, ma comunque ti permette tranquillamente di fare fotografia anche dinamica senza grandi problemi. Io l'ho utilizzata più di una volta anche in situazioni dinamiche. Insomma, è una macchina con un sensore che non è di ultimissima generazione, ma comunque con 24 milioni di pixel di definizione ed è un sensore piuttosto valido. Comunque i colori sono belli, sono in stile Nikon, una bella tridimensionalità, una bella resa della luce, insomma una resa all'alta sensibilità comunque molto buona. Ripeto, non è il meglio che c'è attualmente sul mercato, ma comunque è molto molto buona anche per stampe importanti e una fotocamera completa, completa di flash, insomma non troppo pesante, non troppo ingombrante. Secondo me è perfetta per la famiglia con ad esempio un 24-120 mm f4, insomma un prodotto che personalmente noi consigliamo. È una full frame, si trova a 750 euro, ma forse trovate anche qualche occasione, è un pochino a meno. Fate ovviamente attenzione alle condizioni di utilizzo. Display molto buono, orientabile, in senso verticale. Ripeto, una fotocamera che non potevamo non mettere tra le migliori fotocamere usate del decennio e che ha avuto infatti un successo commerciale veramente molto molto grande. Roberto se mi permetti parlo anche della Leica di Lux 7 perché è un prodotto che conosco, mi piace, qualcuno magari starà storciando il naso, qualcuno è un pochino più informato e dice ma perché non avete messo la Lumix LX100? Tra l'altro adesso c'è anche la Mar 2. Oggettivamente se cercate una compatta con sensore micro 4 terzi, ottica zoom luminosa perché è un 1.728 che copre diciamo l'equivalente 24-70 mm, poi in realtà c'è anche la modalità crop e quindi potete arrivare anche a 150 mm e in digitale 300 mm, quindi in teoria potete coprire un po' tutte le focali anche se in realtà è meglio non andare mai in versione digitale, insomma il crop digitale. Detto questo è comunque una fotocamera che abbiamo scelto la Leica perché la Leica a differenza di Lumix tiene veramente tanto il mercato, è vero, costa praticamente il doppio perché la Lumix, la LX100 si aggira intorno alle 350 euro usata, qui siamo a 800 euro, sono un poco più del doppio, però onestamente ragazzi è un prodotto Leica e come tutte le Leica una volta che tu le compri usate, finito la svalutazione fisiologica poi si stabilizzano e sono comunque ricercate, quindi secondo noi è un investimento migliore, è a nostro giudizio più bella esteticamente della sorella Lumix LX100, i colori a nostro giudizio sono un po' migliori rispetto a quelli della LX100, qualcuno può essere d'accordo oppure meno, insomma è un prodotto che dal nostro punto di vista è interessante, è una compatta che non è piccola come una Rico, attenzione, non è proprio attascabile perché ovviamente per quanto lo zoom rientra all'interno del barilotto però insomma non può essere piccola essendo con un'ottica zoom tra l'altro luminosa, in una tasca di una giacca si può tranquillamente portare insomma un prodotto valido, se pensate a una compatta tenetelo a mente perché comunque parliamo di un sensore micro 4 terzi accompagnato ad una lente zoom laica veramente veramente valida, quindi ci sentivamo insomma di consigliarlo come acquisto per chi cerca un prodotto un po' premium nel mondo delle compatte. Torniamo adesso ancora a Pentax e ci ricasco ancora io nella descrizione, questa volta però la K1, la K1 full frame, come la K32 di cui vi abbiamo parlato nell'altro video è veramente, anzi questa fora ancora di più perché è un chilo di ferro ragazzi, un chilo di ghisa, è un blocco inossidabile, inaffondabile, è veramente una corazzata questa macchina, super robusta, se ti ricordi Damiano alla presentazione l'ha detto Pentax, l'ha presa per l'LCD, così la scuoteva, quindi vi dà idea della robustezza del meccanismo di tutta la macchina, una macchina che ha un sensore da 36 milioni di pixel, un sensore Sony come tantissimi prodotti ormai, ma con il software Pentax riesce a dare ancora di più, ha veramente un sensore tra i migliori ancora attuali come prestazioni a livello di rumore e a livello di dettaglio, le ottiche Pentax sono sempre eccellenti e la macchina attuale completa a un prezzo si trova su 800 Euro, che dire che è vantaggioso e dire poco, per chi è affezionato ancora al mondo reflex è una macchina assolutamente da non perdere, è stabilizzata, è una macchina che può dare veramente tanto, non hanno autofocus come purtroppo devo dire un po' tutte le Pentax estremamente veloce, quindi se fate foto sportiva sicuramente Damiano non ve lo possiamo consigliare, ma per foto di paesaggio, street, still life, tutto quello dove non c'è una gran dinamismo è una macchina che può dare veramente enorme soddisfazioni, una macchina che a questo prezzo vi dà una qualità, sicuramente a nostro parere allo stesso livello delle più moderne mirrorless RF che ci sono in circolazione. E adesso è uscita una modello versione 2 con qualche miglioria, ma ha fatto sì che questo modello, nonostante sia attuale, calasse ancora più di prezzo, quindi un altro prodotto top dei nostri usati e consigliati. Allora arriviamo a parlare Roberto della Canon 6D Mark II, nel video precedente se l'hai visto insomma avrai notato che abbiamo già parlato della Canon 6D, però la Mark I è la versione classica, l'originale, la numero 1, prodotto eccellente soprattutto per rapporto qualità prezzo, 450 euro, ma anche la Canon 6D Mark II è un prodotto molto molto competitivo a 900 euro. Un prodotto quindi, parliamo sempre di una fotocamera, non dimentichiamoci full frame, in questo caso da 26 milioni di pixel, fotocamera che ha beneficiato nell'aggiornamento dalla Mark I alla Mark II e soprattutto in termini di autofocus, autofocus molto più performante, molto reattivo, adatto anche a una fotografia comunque dinamica. Non è certo la fotocamera perfetta per la fotografia sportiva, naturalistica, ma è una fotocamera che se avete bisogno di fare comunque, di tracciare con tranquillità i soggetti, non delude, insomma è piuttosto affidabile. È una fotocamera interessante anche per coloro che sono interessati lato video. Se non vi interessa il discorso 4K, cioè la risoluzione 4K, ha un ottimo full HD e soprattutto un autofocus, il dual pixel F, diciamo moderno, quindi che permetteva di seguire anche il soggetto senza nessun tipo di problema, quindi insomma è adatto per chi vuole fare anche vlog, riprese di questo tipo, tanto più che il display è orientabile completamente, quindi non soltanto in verticale, ma anche in tutte le direzioni. Con la 6D Mark II forse ha qualche problemino problemino se devi recuperare in maniera importante le ombre, in quel caso esce un po' di rumore, però insomma parliamo di aspetti forse più legati a chi magari ci lavora in maniera violenta sui file. Se tu scatti come si scatta normalmente una fotocamera è in grado di regalarti anche la bellezza dei colori Canon che insomma sinceramente sono sempre molto piacevoli. Allora prima Damiano diceva che la Canon 6D Mark II non è la macchina più adatta per fare fotografia sportiva. Io adesso invece vi parlo di una macchina che è adattissima a fare fotografia sportiva, calcia fotografica, è la Nikon D500, una macchina ancora in produzione, ancora in vendita, che con un po' di pazienza si può trovare a un ottimo prezzo, abbiamo detto circa 1000 Euro. È una macchina che ha un sensore da 20 milioni di pixel che non è sicuramente un'altissima risoluzione, però per l'utilizzo a cui è stata, a cui è destinata sono più che sufficienti, tenendo conto che ha un sistema autofocus che è da ammiraglia. Inoltre essendo APS-C copre praticamente quasi tutta la superficie del sensore. Un mirino eccellente, un mirino ottico veramente di altissima qualità, un autofocus che su una macchina estremamente veloce, con una raffica velocissima, ha copiato le ottiche Nikon Reflex che sono comunque ancora eccellenti e si possono trovare a prezzi sempre più bassi nel mercato dell'usata. Detta brevemente, voi fate caccia fotografica, vi cercate una D500 a buon prezzo, macchina ancora attualissima come vi ho già detto, con degli zoom Reflex a prezzi molto convenienti e avrete una macchina che vi darà grandissime soddisfazioni. Veramente una macchina adattissima alla ripresa dinamica, una macchina che non potevamo non consigliare. Ma se volete ottiche più spinte senza svenarvi ci sono Sigma, Tamron, insomma ci sono tante soluzioni anche nel mondo dell'usato per cui se vi appassiona la fotografia sportiva dinamica e non volete spendere cifre da capogiro, giustamente questa, come ha detto Roberto, è la soluzione giusta anche per la possibilità di abbinare ottiche low cost ma comunque molto molto valide. Parliamo adesso della Nikon D810, una fotocamera che francamente anche questa non potevamo non menzionare perché come per la Pentax ha una risoluzione, una definizione del sensore da 36 milioni di pixel, un sensore molto buono, secondo me tra l'altro 36 milioni di pixel, apro un inciso, è forse la definizione migliore perché i file sono belli grandi ma non mostruosi, non gigalitici. È un prodotto fatto veramente bene, costruito bene. Ecco, se nella 750 è stata penalizzata un pochino la qualità costruttiva, nell'810 ritroviamo la qualità costruttiva tipica di Nikon con dei mirini che sono veramente fantastici. Quindi mirino molto grande, molto luminoso, sistema autofocus molto buono, macchina insomma che tra l'altro è stata migliorata anche rispetto alla D800 con i problemi un po' del micromosso, insomma sapete i problemi che un po' affliggevano le prime Nikon D800, invece con l'810 insomma gran parte del problema è stato risolto e ovvio che quando va andate su fotocamere con una risoluzione così alta il micromosso è sempre dietro l'angolo. Di certo aiuta molto la stabilizzazione ad esempio che è presente nella K1, però qui avete ovviamente rispetto alla K1 avete tutto il mondo Nikon a disposizione soprattutto in termini di ottiche, il che insomma è un vantaggio non da poco. L'810 è un prodotto che vi consigliamo di valutare. Passiamo adesso a 1200 euro, quindi una cifra, saliamo ancora di livello, vediamo quali sono le concorrenti, abbiamo la Canon EOS R, la Sony A7R2, la Panasonic G5S1, la Nikon Z6, la Sony A7S2 e la Panasonic G5S, quindi abbiamo pensato anche a due prodotti molto 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 orientati al video. Allora Roberto non perdiamo tempo perché c'è insomma tanta cosa ancora da vedere. Allora a pala di cannone cominciamo con la Sony A7S2, una macchina che sino a poco tempo fa era in un certo senso il top di gamma in ambito mirrorless per i videomaker in ambito Sony, full frame, una macchina comunque che ha ancora dalla sua un'altissima tenuta agli ISO, quindi potete girare filmati ad altissima sensibilità con bassissimo rumore, ma anche le foto a questo punto, perché anche le foto ad altissima sensibilità con un sensore, se non ricordo male, da 12 milioni di pixel, non ricordo male, è vero che me lo ricordo, l'ho detto tanto per dire, da 10 milioni di pixel, attuale, moderno, perché non è che sia un sensore fatto cent'anni fa, dà delle immagini veramente pulitissime, quindi la macchina che chi si diletta a livello di video sicuramente noi consigliamo a un prezzo non esagerato, perché siamo nella soglia dei 1000 euro, 1050 euro, una macchina che in mano ha un professionista può ancora dare grandi soddisfazioni. Allora, arriviamo adesso a parlare di un'altra fotocamera dedicata al mondo dei videomaker, il Panasonic GH5S, abbiamo preferito di inserire la S rispetto alla GH5 liscia, perché è proprio una fotocamera al 100% per videomaker e che ha in più il grande vantaggio di avere un sensore, sì micro 4 terzi, ma da 10 milioni di pixel, dual ISO, quindi con una resa l'alta sensibilità ottima che non fa rimpiangere le full frame. Un prodotto veramente, veramente completo, un prodotto pensato anche da puntista ergonomico, ripeto, per il video. Mi manca purtroppo la stabilizzazione, ma è anche vero che insomma non è un prodotto estremamente pesante, io vi ho preso le ottiche, per cui con un gimbal potete tranquillamente stabilizzare a livello professionale il prodotto, la fotocamera. Quindi se cercate una fotocamera veramente top come prestazioni, come caratteristiche, beh la GH5S ha un prezzo stimato di 1100 euro, sicuramente è un prodotto che dovete seriamente valutare. Sempre sulla stessa più o meno valutazione, 1100 euro, cominciamo ad andare un po' in alto. Parlo della Sony A7R2. La valutazione che abbiamo messo, 1100, è una coperta un po' lunga, si possono trovare persone che chiedono molto di più, ma persone che anche si accontentano un po' meno. A mio parere è il miglior sensore attuale, perché è un 42 milioni di pixel, che è una resa provata, testata da noi di ProMiroles, migliore, è vero, la sensazione più bassa della Sony A7R4, che ha innalzato la sticella come densità, come a livello di milioni di pixel, ma è un po' più carente a livello di gamma dinamica e di tenuta al rumore. Cioè la coperta è un po' corta, sapete bene. Quindi un sensore veramente eccezionale. Ha un autofocus sicuramente efficace, non è l'ultimo grido a livello Sony, però per un certo tipo di fotografia che non sia estremamente dinamica va benissimo e anche la soluzione porta a pensare comunque, anche all'acquirente, che non sia una macchina fatta per la fotodinamica, perché 42 milioni di pixel comincia a dare dei file piuttosto importanti. Una macchina completa, un buon mirino, certo anche questo non è al top, però è un buon mirino, un buon LCD, ma il vero plus di questa macchina è un sensore eccezionale. Quindi anche questa è una macchina altamente consigliabile. Io invece Roberto ti voglio parlare di una fotocamera, voglio consegnare ai nostri amici una fotocamera che stona un po', sinceramente essendo recente, vederla tra i prodotti fino a 1200 euro. Parliamo della Nikon Z6, è una fotocamera recente, insomma sapete benissimo, è vero, direte, è uscita la Z6 Mark II, o meglio la Z6 II, il Mark non c'è, se no qualcuno si arrabbia e mi rimprovera, la Z6 II, che ha risolto un po', diciamo, gli errori, chiamiamoli errori, insomma difetti un po' di gioventù, Nikon a livello progettuale nella Z6 aveva avuto qualche, così, ha fatto qualche scelta che è stata criticata anche da noi, a dire la verità, vedi ad esempio la scelta di un unico slot, però Nikon, grazie anche aggioramenti firmware, il prodotto, la Z6, è diventato un prodotto a mio giudizio, veramente nel mondo dell'usato, uno dei migliori, delle migliori fotocamere da valutare, da acquistare. Il sensore è ottimo, un sensore di 24 milioni di pixel, è recentissimo, è praticamente come quello della Sony a 7.3, ma con tutta l'esperienza e le capacità firmware di Nikon, insomma, che ha accumulato in tanti anni, esperienza che si vede anche nell'ergonomia del corpo macchina, nel mirino, nei comandi, insomma, si utilizza da Dio, dimensioni veramente giuste, fotocamera stabilizzata, insomma, è un prodotto che a 1.100 euro è veramente un'occasione. Abbinato alle ottiche Z, anche un 24-70 F4, che esteticamente non è bellissimo, ma comunque va veramente molto molto bene, avete una macchina fantastica, cioè oggettivamente fantastica. Ci mettete su una scheda molto capiente, da 128 giga e scattate che vi dimenticate, insomma, di cambiare la scheda. Il problema magari è la batteria, batteria non estremamente longeva, quindi un paio di batterie saranno, insomma, da mettere in conto come spesa. E autofocus, però, invece, è molto efficace, anche lui ha beneficiato di alcuni aggiornamenti firme, l'autofocus è efficace, veloce, l'autofocus single è velocissimo, l'autofocus continuo è molto molto buono, il riconoscimento dell'occhio è molto buono, non è, diciamo, il top di Nikon, che ovviamente lo troviamo nella Z6.2 e nella Z7.2, ma comunque è un prodotto veramente veramente competitivo e attuale. Non potevamo non mettere la Canon R, in effetti io e Damiano siamo stati un po' incerti se metterlo o meno, perché a livello, diciamo, prestazionale sicuramente valida, perché ha lo stesso sensore della 5D Mark IV, quindi pidonerà dei file perfetti, perché il sensore della 5D Mark IV è un sensore a livello professionale, non dimentichiamolo, colori Canon sono veramente sempre eccellenti, però aveva qualche difetto, non ha tolto il joystick, aveva anche lei il solo slot, chissà perché, si vede che Nikon e Canon si sono messi d'accordo su uno slot di memoria, non aveva il classico rotellone che ci ha abituato a toccare nella sua ergonomia, tutte quelle cose che poi Canon, pochi mesi fa, ha messo, chissà perché, nell'R5 e nell'R6. Però è una macchina che non potevamo non mettere, considerando quello che si può trovare sull'usato. Il prezzo che abbiamo messo, 1200, è anche tendente un po' a rialzo, potete trovarla anche sui 1000 Euro, se siete un po' fortunati. È una macchina che è accoppiata con le ottiche RF, ma anche con le ottiche Canon per Reflex, perché veniva venduta sempre, mi raccomando, occhio, con l'adattatore, quindi quando l'acquista è usata, state attenti che il venditore non faccia furbetto e non vide l'adattatore. Noi l'abbiamo provato con le ottiche Reflex, il funzionamento è eccellente, ottimo e eccellente. Oltretutto ho fatto un test poco tempo fa, circa 4-5 mesi fa, hanno fatto un aggiornamento firme che ha migliorato tantissimo le prestazioni. Solo una piccola parentesi, il vecchio firme non permetteva di utilizzare l'AF continuo a riconoscimento occhi, il nuovo avete il riconoscimento occhi, che va tanto di moda, lo sapete, sull'AF continuo. Quindi la macchina che complessivamente, tenendo conto per come è costruita, tenendo conto della qualità d'immagine, noi ci sentiamo di potervi consigliare. Ma è una macchina per chi ha ottiche Reflex Canon e vuole cominciare un approccio magari nel mondo mirrorless senza andare a fare un investimento importante su un R6, ancora più importante su un R5, è da valutare. Ok, passiamo adesso ad un'altra full frame recente, la Panasonic o Lumix, insomma S1, non la R ma l'S1. Qui il prezzo stimato è di circa 1200 euro, c'è chi la vende un pochino di più, massimo 1500, chi addirittura un pochino meno, insomma siamo lì, la cifra è più o meno 1200 euro. È un prodotto che conosciamo bene, io personalmente utilizzo insieme al mio sistema Fuji, il mio sistema Sigma SD4, è una fotocamera che utilizzo anche per poter testare tutte le ottiche Sigma perché il grande vantaggio delle Panasonic è poter utilizzare le ottiche che fanno parte del consorzio L-Mount, quindi ottiche Laica e ottiche Sigma. Di ottiche Panasonic native L-Mount ci sono ma non sono tantissime, di ottiche invece L-Mount Sigma ce ne sono veramente tante 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 e adesso Sigma sta producendo tutta una serie nuova di ottiche marchiata DN, in questo caso è l'ultimissimo 35 mm f2 e anche 65 mm f2 che abbiamo recensito sul nostro sito, tra l'altro ottiche veramente fantastiche, vedete non troppo grandi, che vanno un po' a compensare il peso e un po' l'essere massiccia, l'essere imponente della Panasonic S1. È una fotocamera di certo che è praticamente una 5D, una Nikon di 810 come dimensioni, quindi dimensioni importanti anche come peso, stiamo intorno al chilo, quindi si fa sentire, ma vi posso garantire ragazzi è talmente studiata bene, l'economia è così valida, i tasti sono tutti al posto giusto, il joystick è comodissimo, un mirino spaziale, un mirino con una definizione allucinante, enorme, bello da vedere, naturale, mirino ragazzi veramente top, 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 cioè è tra i migliori mirini che c'è di elettronici che ci sono sul mercato, un prodotto veramente valido, Panasonic, questo S1 e l'S1R l'avevano progettata per il professionista e in effetti appena prendi in mano la macchina capisci che ti dà quella sensazione che ti danno solo le Nikon 850, aggiungo anche la Canon 1DX, insomma quei prodotti veramente fatti bene, quindi è venduta a un prezzo pazzesco dal mio punto di vista perché 1200 euro, chiaramente parliamo sempre dell'usato, è un prezzo davvero ridicolo e purtroppo ci fa capire un po' la svalutazione drammatica che si ha nel mondo delle fotocamere digitali, stessa cosa per la Z6, otturatore che ha un soffio, veramente incredibile per una fotocamera full frame, silenziosissima, anche con otturatore meccanico, stabilizzazione top, 5 stop reali, veramente stabilizza bene, sensore con un'ottima tenuta anche di alte sensibilità. Quindi ve lo consiglio, sì, alla grandissima, è una fotocamera che sto utilizzando e sinceramente la consiglio senza esitazione, anche l'autofocus è molto buono, quindi veramente andate sul sicuro. Ok Roberto, finiamo l'ultima categoria, budget di spesa oltre i 1200 euro per i fortunati, vediamo quali sono i contendenti in questa categoria, Pentax 645Z, Leica M9, abbiamo poi la Fuji GFX50S, quindi medio formato, la Sony A9, la Canon 5D Mark IV, la Nikon D4S, abbiamo poi la Leica Q, la Nikon Df e la Sony A7R3. Allora Roberto, parliamo a bomba. Allora, cominciamo subito con la Sony A7R3, una macchina eccellente, si trova a un prezzo estremamente vantaggioso, 1350 euro, anche questo è un prezzo medio di mercato, è una macchina ancora attualissima. L'autofocus è più o meno a livello a quello della A7R3, che è già un autofocus molto, molto, molto efficace. Ha un sensore eccellente, è lo stesso sensore della A7R2 con degli algoritmi rinnovati, insomma avrete una qualità, una gamma dinamica, tutta il rumore, una risoluzione eccellente, un sensore attualissimo, retroilluminato, come Sony sa fare. Una macchina completa, i nostri collaboratori spesso l'hanno usata anche durante i servizi matrimoniali, abbiamo visto i file che vengono generati, che sono file stupendi. Doppio slot di memoria, un ottimo mirino, non è a livello degli ultimi mirini, non è a livello del mirino dell'S1, però ha un 3.600.000 che dà soddisfazione guardare dentro questo mirino. Un bel display LCD, una macchina che si manovra bene, una macchina secondo me anche questa top da consigliare, specialmente pensando al tipo di sensore, alla qualità e al prezzo che si trova adesso nel mercato dell'usato. Sì, per me Roberto è forse una delle, se non è il primo posto, è una delle fotocamere che consigliere di più ai nostri amici perché è veramente un prodotto fantastico, altissima risoluzione, grande gamma dinamica, grande resa d'altiso, autofocus strepitoso, cioè direi che insomma ce l'ha praticamente tutte. Non manca niente. Allora io passo invece alla Nikon DF. Qualcuno soffia il naso. Casualmente caschi proprio su questa macchina qua, ma guarda. Guarda caso, tocca a me. Allora, Nikon DF è un prodotto che al momento, qui intanto mi sto legando con il filo delle cuffie, allora Nikon DF è un prodotto che al momento del lancio francamente fu un po' criticata da qualcuno, altri invece l'amarono in maniera incondizionata, insomma quei prodotti oliami oliodi. Io personalmente faccio parte della categoria che li ama profondamente. È un prodotto veramente bello, un mirino eccellente, sensore da 16 milioni di pixel uguale a quello della D4S, quindi un gran sensore. Ancora oggi sforna file in termini di gamma dinamica, in termini di altiso, assolutamente competitivi con le fotocamere attuali. Certo, magari hanno più definizione, hanno più megapixel, ma comunque, io ripeto, 16 milioni di pixel su un full frame per me non è un punto di demerito, ma è un punto di merito. E questo, diciamo, mi permette di dire, insomma, gli intenditori possono essere d'accordo, saranno d'accordo con me. Magari adesso mi attiro le ire di qualcuno. Comunque, fotocamera fatta benissimo, veramente bella. Il sistema autofocus è quello della D600, quindi non il migliore che Nikon aveva in quel momento a catalogo, ma comunque un sistema autofocus assolutamente, come dire, performante. Tra l'altro era possibile montare anche le ottiche di vecchia generazione di Nikon. La baionetta, insomma, permetteva di innessare anche le ottiche, diciamo, vecchie, analogiche. Quindi è un prodotto, francamente, che è molto valido. Non c'è per niente il lato video, quindi scordatevi di fare video con questa fotocamera. È un prodotto che costa 1600 euro, considerando che venne presentato nel 2014, se non ricordo male Roberto, se vado un po' della memoria. Quindi è un prodotto di sei anni fa, anzi sette ormai, ma ragazzi, quando un prodotto è fatto bene, è un prodotto unico, un prodotto particolare, tiene da bestia il mercato. E questo, secondo me, è un punto di vantaggio, è uno dei motivi per cui acquistarla. Perché tiene bene oggi e terrà bene domani, perché è un prodotto unico. È ancora in vendita, quindi non ha dei problemi assolutamente di assistenza o d'altro. Insomma, prodotto che noi ci sentiamo di consigliarvi, soprattutto a coloro che amano la fotografia, insomma, dal piglio, dal modo di utilizzo della fotocamera, un po' analogico, insomma, un po' vecchio stilo, o quantomeno classico, forse è il termine più corretto. Passo su una macchina che invece ha un approccio diverso, è la classica Canon 5D Mark IV, una macchina strausata, stravenduta, che è una macchina che è estremamente affidabile, estremamente robusta, che ha un sensore ottimo, vi dicevo prima che la Canon EOS R ha lo stesso sensore del 5D Mark IV, vi darà dei file eccellenti con dei colori Canon che sono sempre amati sia da me che da Damiano, ma da tantissimi fotografi in tutto il mondo. È una macchina, anche qua, state attenti molto quando l'acquistate, perché è una macchina, come vi dicevo, che è stata utilizzata da tanti professionisti e quindi se è stata utilizzata da un professionista è possibile, nonostante abbia un otturatore robusto, che sia un po' sfiancata. Se la trovate in buono stato, tenendo conto ormai che il mondo sta andando verso le mirrorless e quindi si trovano ottiche per reflex del sistema Canon a prezzi veramente stracciati e ottiche veramente eccellenti, per chi ancora ha, tra virgolette, il coraggio e la passione di utilizzare le reflex, è una macchina che noi ci sentiamo di consigliare assolutamente, proprio per la qualità intrinseca del mezzo che è indiscutibile. Roberto, vado io e parlo della Leica M9. Ma pensa ancora un po', ma ci casca anche. Guarda quelle casualità della vita. Allora, da utilizzatore Leica M non potevo ovviamente non parlare della Leica M9. Qualcuno dirà, ma perché la mettete una macchina del 2009, cioè venduta nel 2010, insomma c'ha un botto di anni, ma siete pazzi? In realtà no, non siamo pazzi o forse sì, non lo so. Esatto, esatto. Allora, diciamo un po' come tutti i fotografi Leica M, siamo un po' pazzi, però devo dire che è un prodotto che a me personalmente piace e continuo a consigliarlo. Certo, ha dei grossi limiti per quanto riguarda le alte sensibilità, diciamo sopra i 1250 ISO forse è bene non spingersi, però ragazzi, monta un sensore CCD, chiaramente assicuratevi che il sensore sia stato sostituito, perché i sensori CCD montati sulle Leica avevano problemi di ossidazione, insomma di ruggine, detta in maniera povera, e quindi insomma di fatto poi rendevano la macchina inutilizzabile. Leica ha fatto tutta una serie di richiami e i sensori sono stati sostituiti. Se lo trovate circa 1900 euro, esiste poi l'M9P che costa molto di più. 1900 euro siamo stati ottimisti perché è facile trovarla a 2000-2300 euro, come ridere. 2006 la Leica M9P, che sapete la serie P era insomma sempre più cara. È un prodotto che vi fa vivere l'esperienza Leica M al 100%, ma veramente al 100% perché il mirino è quasi inutilizzabile, ha una definizione scarsissima, giusto potete guardare l'istogramma e farvi un'idea dell'esposizione dall'istogramma, ma di certo non è che controllate la messa a fuoco eccetera. Ma queste sono tutte cose che per un fotografo normale sono da pazzi, per un fotografo Leica M ci si convive tranquillamente. Se io sto parlando ai fotografi Leica M sono convinto che mi capiranno. Quindi per me è un prodotto consigliato tenendo conto che ha una tenuta del valore da bestia, per cui è una macchina di 11 anni fa quasi, sta ancora a 2300-2600 ISO. Quindi veramente vi fa capire quanto Leica M è forse l'unico caso in cui si può parlare quasi di investimento nel mercato fotografico, perché di solito ci si rimettono veramente anche le mutande, detta proprio come va detta. Allora Roberto, ti lascio la palla. Adesso è un prodotto ben diverso, ben amico, il segnale. Sì, forse tra i prodotti più indovinati a livello professionale di Leica M c'è la D4S, un sensore eccellente, un autofocus da paura, una macchina che è un carro armato, ha sbaragliato tante tante concorrenti questa macchina, perché una volta c'era solo Canon, ma questa macchina è entrata nel cuore di tanti fotografi sportivi e il motivo ci sarà. Io penso che sia fondamentalmente la grandissima affidabilità sotto in qualsiasi condizione atmosferica. È chiaro, trovarla usata a 2200 euro non è semplicissimo, ma non è semplicissimo trovarla in buono stato, perché solitamente queste macchine non vengono prese dagli amatori. Se siete fortunati e trovate magari il vecchio pensionato che se l'è presa, l'ha tenuta 10 anni in un cassetto, 7-8 anni e poi la rivende, è la macchina da pensarci, sempre legata al discorso che si possono montare tantissime ottiche, sia originali che universali, a prezzi molto convenienti. E comunque, certo, non andrete magari in centro con la D4S appesa al collo se non vi viene la scoliosi, però magari vi fate vedere con questa macchina importante, comunque a parte gli scherzi, che è veramente una grinta, una qualità. Dovreste provarla, questa macchina come anche le 1DX, per rendervi conto a che livello sono arrivate le reflex, professionali, proprio come sensazione, come mirino, come tutto, come sensibilità dei pulsanti, l'ergonomia. Quindi è una macchina che noi vi consigliamo proprio anche come sfizio, come sfida. Non sarà un top, però è una macchina da provare. Roberto, mi tocca riparlare di Leica, guarda proprio questa sfiga. Leica Q, non la Q2, non la Q2 monochrome, anzi la Q monochrome. Leica Q liscia originaria, un fotocamera che ha avuto un ottimo successo di mercato, nonostante il prezzo importante. Oggi si trova intorno ai 2200 euro. Fate attenzione se è tenuta bene, ricordatevi che un prodotto Leica tenuto bene, tiene molto il mercato. Un prodotto Leica un po' massacrato, la svalutazione diventa importante. È un prodotto che è perfetto per la street, per il reportage, 28 mm, Sumilux 1.7, un'ottica costruita intorno al sensore, qualità straordinaria, tutta in stile Leica, quindi con la scala metrica, nonostante la Leica Q sia autofocus, sensore da 24 milioni di pixel. Insomma, ragazzi, è una fotocamera veramente ottima. Non ha la miglior tenuta alle alte sensibilità tra le fotocamere full frame, questo è vero, di quella fascia, però comunque è una fotocamera assolutamente attuale ed è un piacere utilizzarla. Veramente, veramente bello come oggetto da avere in mano. Sono un prodotto che per noi a 2.200 euro vale la pena, soprattutto se amate un certo genere fotografico. E come al solito passiamo dalla Leica, una macchina ipermoderna, non che la Leica Q non sia moderna. Me ne guardo bene, se no Damiano viene a casa e mi taglia le gambe. È una macchina modernissima. Passiamo alla Sony A9, che è l'ammiraglia, adesso è uscita la 9.2, la versione aggiornata con qualche cosina di diversità. È l'ammiraglia per ora, vi dico per ora, delle serie Sony, della ditta Sony a livello sportivo. È una macchina che noi l'abbiamo provata, un autofocus che fa paura. Sin quando non l'abbiamo provato le ultime R5 e R6, sembrava là nel mondo inarrivabile. Un'efficacia, un'efficienza incredibile. Vi racconto che qualche nostro sconoscente, amante Canon, sposato da Canon da anni, ma non con le Canon 1DX e vatte la pesca, ha provato la 9 con un 200-600 Sony, ha venduto il Corredo Canon, ha preso il Sony. Quindi il motivo ci sarà. La macchina quindi adattissima alla caccia fotografica, stra-adattissima, adattissima alla fotografia sportiva. Io ho nominato il 200-600, ma ci sono tantissime ottiche, come sapete, adatte con la baionetta Sony. È una macchina che la vedo anche adatta per il professionista matrimonialista, perché non ha un sensore da paura con un'altissima risoluzione, però chi sa bene, chi fa questo lavoro del matrimonialista, non serve una risoluzione da 50 milioni di pixel. 20-24 sono più che sufficienti. Macchina completa, macchina affidabile. Ha un prezzo adesso veramente, dico iniquo, perché si trovano a questo prezzo praticamente nuove. Tenete conto che quando è uscita costava circa il doppio, quindi un prezzo molto vantaggioso, una macchina eccellente sotto tutti i parametri. Una macchina che noi di Promir sicuramente vi consigliamo. Allora Roberto, a questo punto faccio io le due meglio formato, perché possiamo in qualche modo accumularle. Pentex 645Z e Fuji invece la GFX 50S, partiamo da Pentex, prodotto che oggi si trova a 3.200 euro, forse anche qualcosa in meno, ma soprattutto si trovano delle occasioni da paura, perché magari una persona vende tutto il corredo di ottiche e macchina, sapendo che non ha un grandissimo mercato questo tipo di fotocamere, svendendolo veramente tanto. Nonostante i prezzi a ribasso, non dovete pensare che la fotocamera valga poco, perché in realtà parliamo di un sensore scimosso da 50 milioni di pixel, fantastico, ottimo, è un medio formato. Una fotocamera che di fatto incorporava la tecnologia di una K3, insomma come autofocus, come usabilità, iper robusta a livello di costruzione, tropicalizzata, insomma una macchina che è perfetta anche per la fotografia di paesaggio e fotografie impegnative dal punto di vista delle condizioni atmosferiche. Chiaramente ci sono tutta una serie di fotocamere nel medio formato, in primis da Hasselblad, Phase One, eccetera, ma hanno prezzi notevolmente superiori, e come affidabilità, come resistenza anche alle condizioni climatiche avverse, non sono paragonabili, a nostro giudizio, alla Pentax 145Z. Tra l'altro ottima resa anche dal Tiso, quindi file che può essere strapazzato, si presta molto bene anche a post-produzioni spesso violente, come può subire ad esempio una fotografia di paesaggio, con sottoesposizioni importanti, eccetera, ha grande gamma dinamica, ha grandi ottiche nel medio formato da parte di Pentax, insomma è un prodotto veramente che se il peso non vi spaventa, perché pesa circa un chilo e mezzo solo il corpo macchina, e volete un mirino ottico degno di questo nome, perché il mirino è eccellente, beh insomma tenetelo in considerazione. Chiudo con invece la Fuji GFX 50S, a me è una fotocamera che piace tantissimo, noi abbiamo fatto delle recensioni, anche parlando della sorella, che è altrettanto valido come prodotto, la GFX 50R, che in realtà è similaica, assomiglia alla serie X Pro di Fuji per intenderci, sono entrambe prodotti ottimi, entrambe hanno lo stesso sensore, medio formato, da 50 milioni di pixel, sempre insomma di origine Sony, quindi comunque è un sensore estremamente valido, che onestamente, quando sentite dire, ma più o meno con il full frame non c'è tanta differenza, è uno che parla perché non stampa, questo ve lo diciamo con molta franchezza, se voi stampate le foto derivanti da un full frame, derivanti da un medio formato, notate che la tridimensionalità, la plasticità e anche la definizione, è oggettivamente diversa, ma sono cose che bisogna avere un occhio, un pochino un palato, un pochino più fine, insomma e non semplicemente giudicare le foto da un classico ingrandimento al 100%, laddove comunque il risultato è sempre pazzesco, soprattutto perché Fuji ha corredato questo sistema medio formato di lenti veramente top, sapete che Fuji sa fare lenti per il medio formato, ha un background anche in analogico, lenti veramente pazzeschi, si vede un sistema fatto per il professionista. Il prezzo 3.300 euro adesso è veramente concorrenziale, sapete che sta per uscire la JeffX 50S Mar 2, non so come si chiamerà, insomma o 50 la 100? La 100S, la 100S, ecco grazie Roberto, che ha un 100 milioni di pixel, prezzo molto competitivo, intorno ai 6.000 euro, ok, però qui risparmiate 3.000 cucuzze, che non sono poche francamente, e avete sempre un prodotto ottimo. Vi consigliamo, già che ci siete, di prendere con il mirino che si poteva togliere oppure mettere, e se c'era anche l'accessorio per orientare il mirino in verticale, in orizzontale, è veramente fantastico. È un prodotto più leggero e più trasportabile rispetto alla Pentax, anzi parecchio più leggero e più trasportabile, e soprattutto avete le grandi comodità delle ghiere sulle ottiche, sul corpo macchina, stile Fuji X-T3, insomma per intenderci, macchina tropicalizzata, insomma con i profili pellicolo Fuji, veramente iper consigliata. A chi la sconsiglio? a coloro che hanno bisogno di un autofocus per performance sportive. Ecco, in questo caso, dei full frame ancora rimangono, secondo il mio giudizio, alla soluzione migliore. Ma se siete un paesaggista, un ritrattista, beh, insomma, valutate seriamente questo corredo, certo, considerando le ottiche, considerando il corpo macchina, il prezzo e i pesi sono rilevanti, però sono molto meno rilevanti rispetto al passato, e soprattutto sono praticamente identici a un corredo reflex, full frame, ecco, come in pesi e come in gomme. Roberto, siamo arrivati alla fine di questa lunga carrellata di fotocamere, sicuramente qualcuno dice, ma vi siete dimenticati la Canon 5DS o la Canon 1DX o vi siete dimenticato questo o quell'altro, ci sono tanti prodotti assolutamente validi. noi abbiamo fatto un ragionamento considerando la qualità del prodotto, la reperibilità sul mercato, il prezzo, quindi una serie di variabili. Sicuramente ci sono altri prodotti, se avete dei consigli da condividere, fatelo nei commenti, perché, parliamo del cielo, la nostra non è mica legge, sono il nostro giudizio, la nostra esperienza, però se voi avete delle testimonianze che possono essere utili a coloro che vogliono acquistare un usato senza svenarsi, tranne qualche caso, insomma, ultimo, medio formato, può essere veramente una grande occasione conoscere anche testimonianze dirette. Fateci sapere cosa ne pensate, se avete avuto qualche prodotto fateci sapere la vostra storia e niente, ci vediamo alla prossima puntata di Consigli di Equisti. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!